È stato un grosso incendio, adesso stiamo valutando le cause che hanno scatenato questo danno. È indubbiamente ingente il danno per una delle aziende più importanti dell'agroalimentare a Retino, l'Illuminati, che si trova a Pieve al Toppo nella Val di Chiana e che si occupa di produzione e commercio all'ingrosso di frutta. Un grosso incendio ha interessato i capannoni dell'azienda e la zona degli uffici. L'allarme è stato lanciato alle 22.30, al lavoro da stanotte squadre dei Vigi del Fuoco di Arezzo, Bibiena, Prato Vecchio e Montepulciano. Le fiamme hanno distrutto l'intera palazzina degli uffici, due automezzi e parte dei capannoni. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi del caso, l'ARPAT, la ASL ed il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti. Il danno è milionario, sulle cause ancora nessuna ipotesi.